8 e 17 in questo venerdì 9 febbraio 2024 abbiamo detto i trattori in protesta arrivano a Sanremo ma i trattori in protesta arrivano almeno idealmente a Televari e Radio Bari allora do il benvenuto a Nicola Porcelli alla mia destra e Nicola Valenzano alla mia sinistra sono due diciamo portavoce però in realtà sono liberi agricoltori questo è stato quello che mi avete detto ieri alcuni siete dei rappresentanti rappresentate un po' una delle tante proteste spontanee di questi giorni ieri vi ho incontrato eravate a bordo dei vostri mezzi da lavoro agricolo sulla strada che collega noi cattaro a Torriammare perché da Rutigliano paese dove vivete lavorate siete arrivati fino a Torriammare poi risalendo verso Mola di Bari è una delle tante proteste che stiamo vedendo in questi giorni in tutta Italia allora cerchiamo di capire come nasce questa protesta e quali sono le ragioni che vi portano oggi a manifestare il vostro scontento e il vostro disappunto questa manifestazione nasce contro il sistema europeo perché i costi di gestione sono diventati elevatissimi non si può più produrre in questa maniera abbiamo un incaro del gasolio che è micidiale la mancata qualifica del Made in Italy bisogna tutelare Made in Italy perché noi abbiamo una filiera controllata non possiamo importare materie prime dall'estero dove non abbiamo una filiera controllata noi avete tante regole insomma che rispettate che dovete rispettare anche giustamente come sull'uva da tavola rispettiamo i principi attivi come il grano non usiamo il glifosate abbiamo dei parametri che dobbiamo rispettare rispettiamo per tutelare il consumatore tutelare il consumatore finale poi però che cosa succede che mentre voi state attenti dovete rispettare determinate regole poi magari succede che il produttore che invece deve andare a lavorare quella materia prima quella non so se definirla se è giusto o corretto definire la materia prima ma comunque quello che arriva dai vostri terreni agricoli poi chi deve lavorare quel prodotto invece magari può importare da altri paesi dove invece queste regole non vengono rispettate che costano ovviamente di meno per una serie di ragioni tra cui anche il fatto che vengono utilizzati i prodotti che magari rendono più facili la lavorazione e insomma succede che vi ritrovate di fronte a una concorrenza quindi voi rispettate le regole ma poi sui nostri piatti arriva lo stesso prodotto certo quindi prego prego niente ciò che dice il mio carissimo amico è una cosa giustissima noi siamo dei giovani agricoltori e quindi cerchiamo di fare il possibile per mantenere il nostro made in Italy perché oggi come diceva lui arriva di tutto e di più sulle filiere e purtroppo a noi ci controllano del tutto e quindi noi vorremmo magari che la cosa ritornasse un po' più alla normalità come era una volta e magari solo così potremmo sperare in un futuro migliore per i nostri figli e lasciarli qualcosa che magari potrà renderli un'agricoltura più semplice per andare avanti cioè un futuro migliore più che altro questo tra l'altro è un passaggio su cui torneremo a brevissimo tra l'altro ricordo i numeri per intervenire in diretta 080 501 4668 per le vostre chiamate 080 501 9998 per i vostri messaggi abbiamo una telefonata buongiorno pronto buongiorno sono Francesco saluto te e i tuoi ospiti ai quali volevo fare una domanda volevo chiedere prego prego allora volevo chiedere loro hanno detto che questa è una protesta contro la comunità europea però volevo chiedere se si sentono tutelati da questo governo perché a me sembra tanto che si nascondano dietro la maschera della comunità europea danno le colpe alla comunità europea però la fattibilità non esiste da parte del governo perché se avessero puntualizzato certe cose forse si sarebbe riuscito ad avere qualcosa di concreto invece io noto che questo non c'è appunto volevo chiedere a loro se si sentono tutelati dal governo attuale grazie grazie della domanda beh è una domanda che chiaramente rimanda anche al fatto che comunque in questi giorni voi la protesta la volete portare comunque a Roma sì noi andremo a Roma fine settimana per portare certi punti fondamentali sono dei punti concreti dove dobbiamo avere delle risposte contro l'Europa è la promozione di farina di grilli non so se siete informati carne sintetica latte perché non è solo sul noi non siamo è l'agricoltura in generale noi stiamo facendo questa manifestazione per tutelare tutta la popolazione italiana non riguarda solo il settore agricolo ma anche riguarda la pesca riguarda il latte tutto e l'economia in generale perché l'agricoltura è il bene primario io sul trattore avevo agricoltura e vita è futuro perché perché con l'agricoltura è vita perché nasce la terra fa nasce qualcosa dalla terra nasce l'economia nasce il seme ed è importante a proposito della domanda che ci faceva il nostro ascoltatore c'è un c'è un un confronto che avete avuto anche con i rappresentanti a livello nazionale o a livello locale anche i parlamentari a livello locale che magari con cui potete aver parlato ma portato le vostre istanze cioè rispetto alle posizioni che il governo sta cercando in qualche modo di portare avanti anche venendo forse nella vostra direzione almeno apparentemente avete avuto un riscontro? noi abbiamo invitato queste associazioni e non abbiamo avuto nessuna risposta perché sono stati parliamo delle associazioni di categoria in questo caso sono stati i primi anche a promuovere la farina di grilli e la differenza dalla farina di grilli al grano c'è differenza invece con la politica com'è andata? con la politica abbiamo proposto e vogliamo delle risposte se queste risposte non ci sono poi si vedrà in seguito con tutti noi dobbiamo raggrupparci dobbiamo essere più forti e dobbiamo valutare adesso delle varie mosse da fare giusto per dare un po' un'idea concreta di che cosa significa e del motivo per cui protestate perché poi magari uno dice vabbè si sono messi d'accordo se c'è stato un passaparola hanno detto facciamo lo sciopero un po' come si faceva a scuola quando per fare filone facevamo tutti quanti sciopero nel caso vostro voi perdete giornate di lavoro ma soprattutto il vostro timore è quello di vedere morire attività che si portano avanti di generazione in generazione perché immagino che non è che ci si alzi la mattina dicendo oggi voglio fare l'agricoltore ci sono delle terre che vengono tramandate mandate avanti di padre in figlio poi per carità ci sono tante altre persone che magari scelgono di puntare maggiormente con la propria attività su questo su questo tipo di terreno è il caso di dire nel suo caso specifico per esempio da quante generazioni portate avanti questa tradizione agricola beh calcola dai nostri nonni poi il nostro padre e poi diciamo nella serie diciamo di fratelli uno sceglie la strada a cui prendere io in questo caso ho preso la strada dell'agricoltura e sono padre di tre figli quindi vorrei anche io lasciare ai miei figli la stessissima cosa come ha fatto mio padre e magari sperare in un futuro migliore però purtroppo diventa sempre più difficile perché i costi di gestione sono elevatissimi e se facciamo conto da tanti anni indietro ad oggi ci troviamo veramente ad un guadagno spicciolo come dire però ripeto non vorrei che un domani se io lascio a mio figlio la stessa la stessa cosa dell'agricoltura che lui magari deve andare avanti e non sarà facile perché comunque deve perfezionare la cosa per tutto il discorso che ci circonda i costi saranno sempre più elevati e non vorrei che lui domani arrivasse a buttare giù tutto ciò che abbiamo costruito noi cioè i nostri noni i nostri genitori e quindi speriamo di lottare su questo noi stiamo lottando su questo perché ripeto ribadisco non è semplice l'agricoltura è la cosa fondamentale e dall'acca parte tutto quindi invito anche altre persone a accodarsi vicino a noi perché oggi non conto non è una battaglia solo degli agricoltori no no non è una battaglia solo degli agricoltori e quindi è l'unione che fa la forza perché il governo si ci sta tutelando ci sono delle domande magari che noi potremmo fare nell'agricoltura tipo il discorso dei mezzi nuovi magari che uno si prende il mezzo nuovo ci sono le domande però non è così che bisogna andare avanti cioè bisogna comunque abbattere dei costi come il discorso del gasolio agricolo cioè sono tante le situazioni che oggi ci stanno portando a fare questa manifestazione cioè non è che noi ci siamo svegliati la mattina domani andiamo a fare lo sciopero no è un accumulo di tante cose tante spese accumulate negli anni ecco possiamo quantificarlo un po' questo che cosa significa perché per esempio quando parliamo di costi del gasolio quanto incide perché poi noi ce ne rendiamo conto quando andiamo magari al supermercato al fruttivendolo a comprare un po' di frutta e ci rendiamo conto che diciamo è aumentato un bel po' il costo ma poi di quell'aumento del costo poi in realtà a voi torna indietro qualcosa perché ci è capitato spesso di raccontare di come poi il prezzo di vendita non corrisponda alla fine a un guadagno maggiore da parte vostra che invece sostenete un costo maggiore noi usiamo il gasolio agricolo come anche in pesca usano il gasolio agricolo noi due o tre anni fa pagavamo il gasolio a 70 centesimi adesso lo paghiamo a 1 euro e 30 il gasolio nasce il gasolio agricolo nasce con un risparmio doveva avere un risparmio del 50% rispetto al gasolio industriale invece adesso noi abbiamo 20% ecco e in buona sostanza praticamente i costi raddoppiano i costi raddoppiano ma come anche i costi di produzione perché sono elevati fitofarmaci e tutto aumenta tutto il prodotto viene svalorizzato perché questa è la realtà il prodotto viene svalorizzato voi però quando incontrate la grande distribuzione a volte vediamo i prezzi che salgono ma voi ritorna un po' indietro poi di quell'aumento dei prezzi quindi a fronte di un aumento dei costi che sostenete voi sostiene ovviamente anche chi vende perché poi lo sappiamo che c'è anche il trasporto la logistica ci sono tutto una serie di settori il guadagno è minimo il guadagno è veramente minimo e spaventa questa cosa qua perché un giovane agricoltore sa cosa significa i sacrifici di una famiglia di una vita però poi con questi gli fai conti a fine anno e non riesci a produrre più in maniera con la qualità ecco abbiamo un altro ascoltatore in linea buongiorno pronto? buongiorno buongiorno la sentiamo buongiorno sono una mamma sono una nonna ricordo quando andavamo a scuola dai ragazzi insomma ci hanno educato a rispettare gli alberi a piantarli addirittura poi li hanno spiantati qui vicino alla chiesa del Redentore insomma ognuno ha fatto di testa sua mio padre ci ha insegnato che la campagna è la prima cosa da rispettare i vigneti la Puglia i paesi della Puglia mio nonno era un conte discendente da una famiglia nobile ora non mi sto a dire non so voi di che paese siete Rutigliano sono Rutigliano mio padre lavorava al consorzio agrario e quindi era aperito tecnico poi mio nonno ha costruito l'istituto Maria Cristina di Savoia diciamo a Bitonto Planelli la famiglia Silos Labini erano imparentati va bene lasciamo da parte questo veniamo al punto signore il punto è questo sono con voi come donna togliamo gli anni togliamo la nonna togliamo da bambina da ragazzina ci muovevamo qui non si muovono i cittadini voi siete soli invece al governo sotto il governo dovevano andare anche i cittadini quelli con i capelli bianchi con i capelli rossi tutti dobbiamo fermarci con voi noi siamo con voi grazie 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 della telefonata grazie della telefonata vedevo il nostro ospite che annuiva e un po' un po' il segnale quello che chiedete insomma quello di avere una cittadinanza secondo voi sta rispondendo un po' la gente sta comprendendo anche le ragioni della vostra protesta beh alcuni si alcuni no ed è questo che noi non abbiamo capito cioè noi siamo tutti sull'agricoltura è di là che parte tutto quindi voglio dire anche quando si va a fare spese nel supermercato si trovano degli articoli che magari uno li può comprare e alcuni non li possono comprare parlo di verdura parlo perché si trova a prezzi elevatissimi trovi la verdura magari che a noi al produttore viene pagata 20-30-40 centesimi e poi vai al supermercato la trovi a 2 euro 3 euro e questo è il discorso anche e quindi io invito tutti quanti a sostenerci perché dobbiamo vincere questa battaglia insieme tutti quanti chi è dell'agricoltura e chi non è dell'agricoltura perché è un perno principale l'agricoltura è un perno principale è chiaro chiarissimo il messaggio speriamo che la politica sappia poi fare sintesi di queste istanze sia da un punto di vista del cittadino consumatore che del cittadino agricoltore prima di chiudere al volo ricordiamo voi non non vi non vi fermerete con le proteste e credo che almeno per quanto riguarda il vostro presidio proseguirete nei prossimi giorni sono annunciate già altre manifestazioni sì allora vi invitiamo prima di tutto a venirci a trovare al presidio Rutigliano martedì ci sarà un altro corteo qui in Puglia non vi dico la zona perché è una sorpresa e vedremo vedremo insomma vedremo insomma dove sarà la manifestazione e ovviamente cercate di ascoltare anche per capire poi magari uno si prende le sue posizioni e cerca anche di farsi un'idea autonomamente grazie a Nicola Porcelli Nicola Valenzano portavoce entrambi della protesta di questi giorni due agricoltori insomma che hanno voluto rappresentare le loro istanze le istanze della categoria un po' di musica torniamo tra pochissimo anche un po' di musica